Torino, 14 maggio. Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2001 che evidenzia un fatturato consolidato di 74,2 miliardi di lire e un risultato operativo che torna positivo a 2,2 miliardi di lire. Roma, 15 maggio. L'avventura di Tatiana Garbina agli internazionali di tennis di Roma si conclude in anticipo con l'infortunio della tennista che non supera così le eliminatorie. Buoni risultati invece per Concita Martinez che arriva in semifinale dove perde contro la Jugoslava Dokic. Entrambe le atlete saranno impegnate nel torneo internazionale Roland Garros di Parigi che avrà inizio a fine mese. 28 maggio. In occasione dei ritiri azzurri a Tirrenia e Coverciano in vista delle partite in Georgia, la Cappa presenta in anteprima all'Under 21 e alla Nazionale Maggiore la nuova collezione FIGC 2001-2002 che vede applicati a tutti i capi della linea gli stessi standard di design e di performance tecniche raggiunti con la Combat 2000. Fitting più aderente, tessuti stretch più leggeri e tecnici e branding più discreto.